Grazie a tutti. Che dobbiamo anche dire, giusto domenica scorsa, si è svolto un evento proprio qui alla Mezzia in compagnia di un'altra persona molto importante che era Richard Romagnoli. Io adesso innanzitutto saluto Angelina che ci parlerà appunto di come nasce Sognando la meta che è appunto il libro che presenteranno proprio qui oggi alla UBIC di Cosenza. Ciao Angelina. Ciao, grazie di questa possibilità. La possibilità ce la dai tu di presentare questo libro e di raccontarlo visto che io l'ho letto, è molto bello, adesso lo presenteranno per scoprirlo ancora di più. Ce ne vuoi parlare? Sognando la meta nasce come... nasce, nasce, nasce. Un libro nasce, finché mi partorì. Ho iniziato a scrivere prima la storia di Sofia. Sì. Poi il personaggio mi ha consentito, quasi obbligato in un certo senso, a costruire altri personaggi, per cui è stato sempre un incalzare di personaggi che avevano voglia di dire loro. Questo è il mio primo romanzo, prima di questo ne ho scritto un altro ma è più un saggio che non un romanzo propriamente detto. E quindi Sognando la meta nasce proprio dalla mia esigenza di dare un messaggio che è quello della normalità attraverso la consapevolezza di sé e della propria straordinarietà. Perché per me normalità significa riconoscere che sia unici, che sia straordinari. E quindi ho cercato in qualche modo di raccontarlo in Sognando la meta. Ho voluto dare a questo titolo un senso di movimento, per cui Sognando e non sognare, perché ogni giorno noi costruiamo la nostra meta. E quindi questa cosa per me era molto importante. Tra l'altro dobbiamo dire anche che i due protagonisti, anzi tra i protagonisti sono appunto Ettore che è appassionato di rugby e Sofia che invece è un artista, va in Africa e quindi queste due passioni che apparentemente sembrano inconciliabili sbocciano in qualcosa che comunque apparentemente, ripeto, sembra inconciliabile eppure nasce qualcosa. Sì, perché i due personaggi sono complementari. Perché Ettore è sostanzialmente un decisionista, un ragazzo che decide di intraprendere la strada del rugby a un'età in cui in teoria non si dovrebbe, cioè si è già grandi, 15 anni grandi, però è per lo sport sostanzialmente così. Invece lui si innamora di questo sport, del messaggio di questo sport e dice io vado, ci provo e vedo che cosa succede sulla mia pelle. Sofia è una che si lascia trasportare dalle emozioni, quindi molto più emotiva rispetto ad Ettore. E i due si incontrano in un luogo meraviglioso che è la nostra terra, che è la Calabria, che diventa poi lo scenario nel quale questi due personaggi hanno modo non solo di incontrarsi, ma di crescere insieme, di migliorarsi e migliorare anche il contesto nel quale vanno a trovarsi. Per cui Sofia lo farà attraverso l'arte, la musica, la radio e la sua passione per i libri. Ettore lo fa attraverso il rugby perché aiuterà il suo amico a realizzare un sogno che poi diventa anche un riscatto. E qui a questo punto subentra un altro personaggio molto importante che è Sergio. Senza raccontare che cosa realizza nulla, però diciamo che comunque all'interno di questo tuo primo saggio, questo primo romanzo, affronti una tematica molto importante e di attualità, soprattutto per questa terra, come dicevi tu, che è l'andrangheta. Io ho voluto dare all'andrangheta il ruolo che merita, quasi nulla. Io ho più che altro spiegato come i ragazzi mettendosi insieme possono in qualche modo essere un'alternativa valida, anzi l'unica alternativa possibile per realizzare con dignità se stessi. Quindi sì, c'è l'andrangheta ma il tempo per dire, guardate che può non esistere se ognuno fa il suo, se si coltiva il proprio sogno, il proprio progetto, se si è tenaci, se ci si impegna, se si fa rete. Perché poi la cosa importante in questo libro, per me che l'ho scritto, è che loro si mettono insieme. Cioè la loro forza sta nella squadra, la loro forza sta nel trio di amicizia di Sofia, di Ettore che impara la fratellanza grazie a Sergio che impara a vivere appunto per quello che è, con i suoi difetti ma soprattutto con i suoi meriti e con la sua passione. E tra l'altro all'interno di questo libro può traspare questa cosa, cioè il fatto di fidarsi delle persone a cui vogliamo bene. Magari uno pensa alle volte che le persone non ti capiscono. In realtà quando ci si inizia a fidare le cose iniziano a cambiare perché comunque ci si affida. E in questo romanzo proprio, in questa relazione di amorosi sensi uno potrebbe dire tra, è vero, tra Ettore e Sofia e Sergio. Sì, per il prossimo libro. No, è vero, cioè si trasparevano tante cose, amicizia, amore, sport e la voglia di cambiare ma di cambiare positivamente. Sì, il progetto di ognuno dei personaggi è un progetto costruttivo, cioè non ho voluto metterci pensieri negativi, idee negative. Cioè ho fatto vedere come quando una famiglia funziona, quando le amicizie funzionano, quando i sogni sono importanti, allora si può davvero creare qualcosa di bello per la propria terra. Per cui per me è un modo di dare speranza, di dire beh... Diamoci una mossa. Diamoci una mossa. Come dice il mio amico Alessandro Benetti, muovi per prima te stesso e da quel primo passo è sicuro si arriverà alla meta. Tra l'altro guarda, nello yoga della risata proprio che il 19 domenica scorsa proprio questo è il senso, cioè tu devi cambiare le cose. Diceva appunto, Richard diceva, come diceva un mio amico, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, Gandhi. Sì, poi Madame Kataria che ha inventato lo yoga della risata dice, quando tu ridi tu cambi e quando tu cambi il mondo cambia con te. Cioè quando tu cambi atteggiamento il mondo ti vede in modo diverso e proprio perché ti vede in modo diverso, reagisce a te in modo diverso e cambia inevitabilmente. Per cui Richard, che è ambasciatore nel mondo dello yoga della risata, ciao Richard, ha portato in questi quattro giorni in Calabria, perché poi siamo venuti anche qui a Cosenza, a Castrovillari, insomma nel nostro territorio del Reventino, ha dato grande energia. E una cosa bella che a me è piaciuta e che mi sono messa nel cuore con il suo catch è che lui ha sempre parlato bene della nostra terra. Cioè lui ha visto l'energia positiva, ha visto la spiritualità, ha visto la creatività, ha visto la passione e gli è piaciuta. Angelina, tu quindi da questa positività da dove trai le tue ispirazioni per scrivere il libro e per continuare i tuoi progetti? Dall'entusiasmo di mio padre, dalla determinazione di mia madre, dai sorrisi dei miei nipoti, dei miei sogni, dalla tenacia con la quale con Graziella siamo portando avanti la nostra associazione, la Promete. Dalla realtà che adesso guardo con uno sguardo diverso, da tutte le persone che in un modo o nell'altro ti danno un sorriso, credono in te e magari vengono a farti un'intervista. No è vero, però guarda, io leggendo il libro, sognando la meta effettivamente vedo che i tuoi protagonisti l'hanno raggiunta la loro meta. Tu hai raggiunto la tua perché comunque scrivere e pubblicare un romanzo è una bellissima meta realizzata. Quindi a questo punto io ti auguro di continuare su questa strada, perché sei teacher di Yoga della Risata, sei scrittrice, sei psicoterapeuta, sei psicologo, ce l'hai tutte. Allora a questo punto dai un consiglio a chi volesse appunto acquistare il libro, perché acquistarlo? Perché c'è speranza, perché c'è un amore che va oltre, perché c'è la voglia di essere, la voglia di raggiungere la meta attraverso la normalità. Io a questo punto ringrazio, dovreste vedere l'altro video, comunque se andate veramente Yoga della Risata, oppure Angelina Pettinato, Mazzagraziella, oppure Richard Romagnoli, capirete che cos'è. Ho ho ha ha ha. A questo punto io ringrazio Angelina Pettinato per l'intervista e niente, ci vediamo alla prossima, magari sempre per cose culturali e comunque che siano positive. Grazie Angelina. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.